Questo programma è offerto da... E sono 15 con la puntata odierna, le trasmissioni dedicate al Rally di questo 2017. Naturalmente i ragazzi di Rally Dreamer, anche quest'oggi, ci hanno regalato delle immagini da urlo. Per raccontare nel dettaglio la puntata che sta per partire, naturalmente io lancio la palla alla Super Carlotta Savorelli che è qui con me. Grazie mille Ricky e ben ritrovati a tutti. Questa quindicesima puntata sarà la più bella? Chissà, magari la sedicesima la scalza ancora. Sarà sempre così, un crescendo fino alla fine dell'anno. Del resto mancano ancora 7 gare e diverse puntate da qua al 31-12. Ricky, oggi Giorgia non c'è e io le mando il mio saluto più caloroso possibile. Vorrei che fossi tu a questo punto a dare le coordinate di Rally Dreamer ai nostri telespettatori. Assolutamente, salutiamo naturalmente Giorgia e oggi tocca a me questo ardito compito di lanciare i contatti di Rally Dreamer che sono veramente tanti. Iniziamo dal sito che è rallydreamer.com, la mail della redazione è dedicata a rally, ossia rallydreamer.gmail.com. Naturalmente la redazione di Rally Dreamer è molto attiva sui social, quindi mettete un bel mi piace sulla pagina Facebook che è rallydreamer oppure anche su Instagram seguite la rubrica appunto rallydreamer che ogni giorno pubblica delle immagini spettacolari. C'è anche un numero WhatsApp, cara Carlotta, che lo andiamo a dare 349 29 40 7 96 risponde Carlotta. Esatto, pronto, pronto, pronto. Bravo Ricky, sei stato bravo, devo farti i miei complimenti, so che è un compito di Giorgia però te la stai cavando molto bene. Allora, nella puntata di oggi andremo a parlare di quello che è stata la rally città di Schio e la tredicesima tappa Rally Piston Cup e poi andremo un po' ad addentrarci in quello che è stato l'ultimo fine settimana che abbiamo vissuto. In questo fine settimana noi siamo stati alle terre di Ciociaria, rientreremo e vi faremo vedere le immagini a inizio di settembre. Alla fine di questa puntata vi mostreremo di nuovo la rubrica nella rubrica dedicata a Parco Chiuso, in cui entreremo ancora di più nel vivo del rally. Vorrei introdurvi a questo punto il nostro ospite che è il coordinatore della serie Rally Piston Cup e l'ideatore appunto di Rally Dreamer. Mirko Tognarini, benvenuto tra noi. Buonasera a tutti i telespettatori. Allora, visto che sei qui con noi a Schio, ci siamo divertiti parecchio, vorrei che fossi tu a dare qualche informazione, senza svelare troppo perché il servizio parlerà a sufficienza. Vorrei che fossi tu a parlare di questo rally città di Schio che ci ha visto molto presenti. Un città di Schio che sinceramente era una novità per me. Io non avevo mai visto questo rally, non avevo mai vissuto questa gara che in realtà si è dimostrata all'altezza della situazione, se non di più. Perché è stata sicuramente ben organizzata dai loro organizzatori e sicuramente ci sono dei posti bellissimi sia da visitare che da vivere con la gara. Le prove speciali sono spettacolari, hanno dimostrato sia i tempi sia lo spettacolo e soprattutto ai miei ritiri che sono stati tantissimi. Perché comunque non sono strade facili e non sono forse per tutti, solo per qualcuno, quelli che veramente sanno guidare bene su quelle strade. Indubbiamente per noi di Piston Cup avevamo tre partecipanti e quindi avevamo il giusto tempo per seguirli tutti, per coccolarteli e per poter in qualche modo stare più vicini rispetto al solito, che ci sono tanti di più iscritti, come te ben sai Carlotta. Da noi questa volta c'era uno sfortunatissimo dal ponte che già subito all'inizio, poi lo vedremo nel servizio che andrà più avanti, quindi non svelerò assolutamente niente. All'inizio ha avuto una sfortuna pazzesca e poi fortunatamente e coraggiosamente è rientrato in gara con i super rally il giorno dopo. Indubbiamente un Targon in grande spolvero ha fatto dimostrare che anche con macchine medio-piccole si va veramente a gravar forte se il piedri destro è quello giusto. Vogliamo dire che cosa ha vinto, almeno questo glielo possiamo concedere, possiamo spoilerarlo dai. No, ha vinto lui il premio Magigas indubbiamente perché ha vinto la tappa del Piston Cup, è stato lui ad avere i più punti in questa tappa. Quindi dietro di lui c'era sicuramente un grandissimo quaderno che però anche lui, ahimè, sfortunato, aveva rispolverato una Renault Clio Williams che ha fatto girare fortissimo, soprattutto sulla prima prova dove lui al ristorante, se ti ricordi, dice di aver accarezzato i tornanti. A me sembra che l'abbia ben forzato i tornanti, però alla fine il cronometro ha dato ragione a lui e quindi indubbiamente non posso dire il contrario di quello che poi lui ci ha raccontato. Sfortunato, costretto a ritiro, anche questo poi vedremo come e perché nel servizio. Senza considerare che comunque questa rally Città di Schio è capitanato da due donne e questo per me che sono donna è una grandissima cosa. Quindi io sono sicura che i nostri telespettatori abbiano una gran voglia di andare a vedere questo servizio, ma i tuoi occhi parlano. Esatto, anche io lo voglio vedere questo servizio perché come ce l'ha spiegato Mirko sicuramente la Città di Schio ha regalato forti emozioni. Prima però c'è un pochettino di pubblicità. Va bene, solo perché sei tu. Va bene, a tra poco. Hai amici a cena e tanto per cambiare sei in ritardo, ma puoi ancora farcela. Ti servono gli ingredienti giusti e un impasto steso a mano da qualcun altro e fatto lievitare naturalmente 24 ore. Ah, ovviamente è cotto in forno a legna, come in pizzeria. Che ti dicevo? Eccoli, puntualissimi. Quando si tratta di mangiare... Italpizza 26x38. Noi la prepariamo, tu la sforni. E da oggi nel reparto sorgelati trovi anche tre nuove farciture. Provale tutte. Mecomer, azienda leader nel settore dello sbaltimento dei rifiuti industriali. Da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it E come promesso, bentornati con noi. Adesso vi lasciamo alle immagini della 27esima Rally Città di Schio, 13esima tappa Rally Piston Cup. Questo programma è offerto da... Ma a cosa assomiglia Sheridan? Mantova, a Verona, a Vicenza, a nessuna di queste città. È su, contro le montagne. Un po' come Schio. Grazie alla grande passione per i rally, oggi Rally Dreamer vi porta a Schio. Ci troviamo qui, in questa piccola cittadina veneta, in provincia di Vicenza. Ci sono soltanto 40.000 abitanti in questa città. E siamo soltanto a 200 metri sopra il livello del mare. Nella cima del colle della città di Schio troviamo il suo castello, anche se realmente oggi ne rimane ben poco. Ciò che resta è la torre merlata con l'orologio, inglobata all'interno di Santa Maria della Neve, una minuscola chiesetta sconsacrata. Negli anni 40, sotto questo colle, venne costruito un rifugio anti-air. Questo rifugio ha una dimensione di circa 500 metri quadrati. Giusto di recente, è stato pulito dai detriti e gli è stata data nuova vita. Tant'è che in questo momento viene utilizzato per la stagionatura di formaggi e vini locali, poiché il microclima è perfetto. E mentre intoccano le campane del Duomo, a me è venuta una domanda. Ma come si chiamano gli abitanti di Schio? Allora sono andata a documentarmi. In italiano si chiamano scledensi, perché la derivazione latina è scledum. Tecnicamente è una pianta di derivazione dalla quercia. Ma la cosa divertente è che gli abitanti di Schio amano chiamarsi schiotti. Ci troviamo in piazza del Duomo, il Duomo di San Pietro. Questo è l'edificio culto più importante di tutta la città di Schio. Siamo nella piazza di Alessandro Rossi, figlio del fondatore delle Lane Rossi, politico e industriale della fine del 1800. Esiste un'epigrafe murata sul muraglione del giardino del Duomo, che recita la chiesa eretta su questo colle nel secolo X, rifatta poi tre volte. E per concorda e generosità cittadina, a maestose forme ridotta, fu ampliata e abbellita nel 1879. Ci troviamo ai piedi della statua del tessitore, detto anche Lomo. Quest'opera è stata realizzata nel 1879 da Giulio Monteverde, su commissione ovviamente di Alessandro Rossi. Questa statua è stata fra l'altro una delle primissime statue in onore dei lavoratori italiani. La statua raffigura un uomo operaio che tiene in mano una navetta e ai suoi piedi sono posti i panni, frutti del suo lavoro. Sfortunatamente nel 2003, durante dei lavori di ristrutturazione della piazza, una gru andò a sbattere contro la statua. La distrusse, ma già l'anno successivo venne ristrutturata, restaurata e riconsegnata ai propri cittadini. Ed è proprio da qui, dalla piazza di Alessandro Rossi ai piedi dell'Omo, che diamo il via al 27esimo Rally Città di Schio, 13esima tappa Rally Piston Cup. Sono 97 gli equipaggi che, dopo aver superato con successo le verifiche tecniche e sportive, sono transitati sul parco di partenza per affrontare l'unica fatica del sabato, la prova speciale di Monte Rosso. 3,2 km di strada larga e veloce che accarezzano il monte in una tenue ma mai interrotta salita. La decisione presa dall'organizzatore di far partire i concorrenti in ordine inverso, dal numero di gara più alto a quello più basso, ha fatto sì che le classi solitamente meno blasonate abbiano potuto avere un minimo di vantaggio sulle altre, avendo effettuato la prova con la luce del giorno. Pronti? Via! Ecco il primo colpo di scena. Allo start della prova, la Peugeot 208 di Dal Ponte si ammutolisce qualche istante allo scatto del verde del semaforo. La pompa della benzina si rompe e all'equipaggio non resta che parcheggiare l'auto sul lato della strada. La prova sarà vinta da Bianco, che con la sua Skoda riesce a stare davanti alla Citroen VS3 di Righetti per un secondo e alla Mitsubishi di Battaglien per due secondi e otto decimi. Monte di Malo è la prova più lunga e suggestiva del rally ed è anche la prima della seconda giornata di gara. Mancano tre minuti alle dieci quando Bianco molla la frizione della sua Skoda Fabia, schizza via lungo gli oltre 13 chilometri di prova speciale. Sarà di nuovo Bianco a vincere la prova. Secondo ha soli sei decimi di distacco dal Ponte, che è rientrato in gara usufruendo della regola del super rally. Terzo bizzotto. Da segnalare l'ottimo tempo di Kogo, in lotta con Dal Ben. Da questo momento in poi, la gara prende forma per come il destino ha voluto che fosse. Il ritiro di Dal Ponte ed il successivo rientro in gara, pur con una penalità di oltre tre minuti, subordina azioni e reazioni degli equipaggi che erano considerati i possibili vincitori prima dell'inizio della gara. Dal Ponte ci tiene a dimostrare che può vincere e vincerà tutte le prove da qua in avanti. Bianco sa di poter amministrare un vantaggio impareggiabile su quello che poteva essere il suo diretto avversario e mira solamente a coloro che oggi potrebbero ostacolarlo nella vittoria, amministrando il mezzo e prendendo meno rischi possibili. Sulla terza prova, quella di San Rocco, dietro Dal Ponte e Bianco, Battaglin è terzo, con il quarto Righetti a poco più di un secondo. All'ingresso del parco assistenza, la classifica generale vede Bianco primo con 27 secondi e 4 decimi di vantaggio sul secondo Righetti e 31 secondi e 2 decimi sul terzo Bizzotto, che ha ben approfittato del brutto tempo, fatto registrare da Battaglin, adesso quarto, sulla prova di Santa Caterina Enna. Dal Ponte sta scalando la classifica e adesso è 32esimo. Ottima la 14esima posizione assoluta di Quaderno e la quindicesima di Targon. Da segnalare le belle prove di Kogo, settimo assoluto e Fanton, velocissimo con la peggiottina di classe A6. Sul secondo passaggio della Montemalo, Dal Ponte vince ancora. Bianco continua ad amministrare e si accontenta della seconda posizione, mentre l'uscita di scena di Bizzotto, che si ritira in questa prova, dà il via al duello tra Righetti e Battaglin per assicurarsi la seconda posizione del podio. Righetti vince il primo set sulla Montemalo e Battaglin il secondo set sulla San Rocco, ma per lui il ritardo accumulato fino a qua sarà impossibile da recuperare sull'ultima prova del rally. Quindi, prima di andare a comporre il podio finale di questa bellissima gara, come consuetudine del team di Rally Dreamer, andremo a vedere chi si è giudicato ogni classe. Sono contentissima, è andato tutto bene, la giornata, il tempo, sono stati bellissimi, caldo, tanto caldo. Ecco la mia socia, eccola qua, Patrizia. No, Patrizia, di qualcosa. Quanto sei contenta? Tanto, tanto, tanto. È stata dura, ma contenti. Allora, l'anno prossimo? Mondiale, l'anno prossimo. Me l'ha già promesso il sindaco. Mondiale. Lo presentiamo in siena. Lally in diretta su Rally Dreamer. Esatto. Squadra perfetta. Cominciamo dalla classe N1, dove Diego Piero Pan, in coppia con Emanuele Castegnaro, con la piccola Peugeot 106, conquistano l'alloro dei vincitori. Mirko Graziani, con a fianco Mica e il Savio, sono i più veloci nella classe Racing Start, fino a 1600 cm3, grazie anche alla loro performante Citroen Saxo. Con una Mini Cooper S, anche questa di classe Racing Start, fino a 1600 cm3, ma turbo, Giampiero Rocchi, navigato da Elsa Daldosso, sono i vincitori della classe RST 1006. Il duo formato da Jonathan Santolini e Marco Negro Marcigaglia, sventolando ovunque il retrotreno della loro Citroen Saxo, si aggiudica la classe N2. Li sentivamo arrivare da lontano e a quanto pare la loro Citroen Saxo non era solo rumore, visto che Gianguido Rossi, con alle note Eros Carolio, sono i vincitori della classe K10. La coppa più alta di classe A5 va all'equipaggio formato da Matteo Zanoni e Giulia Garbini, che hanno fatto segnare ottimi tempi anche per l'assoluta, con la piccola 106 di casa Peugeot. Ancora una Peugeot 106, ma questa volta di classe A6, sarà risciacquata con bottiglie di spumante per aver permesso a Marco Fanton e Ileana Contado di vincere la classe. Michele Griso e Pietro Elia Ometto hanno dominato la classe R2B con la loro Peugeot 208. Giovanni Cocco, in coppia con Christian Buccino, sono i vincitori della classe Super 1600 con la splendida Renault Clio. Ottima la prestazione di Mattia Targon e Andrea Prizzon, che hanno orbitato tra l'undicesima e la dodicesima posizione assoluta per tutta la gara, dominando la classe N3 con la loro Honda Civic Typer, preparata da papà Targon. Giovanni Costenaro ed Enrico Gastaldello sono i vincitori della classe Super 2000 con una splendida Peugeot 207 che hanno portato fino all'ottava posizione assoluta. Settimi assoluti e primi di classe A7, l'equipaggio formato da Claudio Cogo e Carlo Guadagnin, che hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico presente con i traversi della loro Renault Clio Williams. Peccato per Quaderno, che si è dovuto ritirare per guai meccanici quando era saldamente in lotta per vincere la classe. Massimo Dalbenne, con alle note Chiara Corso, sono primi di classe R3C e soprattutto quinti assoluti e primi tra le due ruote motrici con la bellissima Renault New Clio. E adesso, come promesso, andiamo a comporre il podio di questa splendida gara. Terzi assoluti, Alessandro Battaglini e Serena Pagliarini, che con la loro Mitsubishi Evo 9 vincono anche la classe R4. Beh, è stata una gara un po' travagliata, però è bella, è una gara molto difficile, tecnica, è facile sbagliare, di fatti basta che vedi quanti ritiri anche al vertice ci sono stati, però per questo è una gara molto appassionante, selettiva e divertente, quindi difficile da interpretare, però molto bella, affascinante. Secondi assoluti e secondi di classe R5, il duo composto da Roberto Righetti e Giuseppe Ceschi, spettacolari con la loro Citroen DS3. C'è bisogno sempre di tantissima concentrazione in prova speciale, siamo comunque felicissimi di essere arrivati secondi assoluti. Una gara non semplice, anche contro dei piloti specialisti e di casa soprattutto, dunque sicuramente ottimi conosciuti delle prove. Noi comunque siamo soddisfatti e felici, stiamo sempre più prendendo in mano questa DS3 R5 e vediamo i risultati. È arrivato il momento di far squillare le trombe e cantare ad alta voce l'inno di Mameli per festeggiare Efrem Bianco e Dino Lamonato, che con la loro Skoda Fabia vincono la 27esima edizione del Rally Città di Schio. Per la cronaca vincono anche la classe R5. Sì, la gara, soprattutto le prove speciali del Rally di Schio sono sempre impegnative. Siamo stati bravi noi, che non abbiamo commesso nessun errore. Ringrazio l'ADP che mi fornisce sempre una macchina eccellente. Il premio messo in palio da Magigas, che riguarda il vincitore tra i partecipanti alla gara iscritti al Rally Piston Cup, è stato vinto da Mattia Targon. Ben ragazzi, come sempre, immagini bellissime e cronaca delle gare sempre puntuali. Carlotta, Mirko e tutto lo staff di Rally Dreamer, complimenti! Ero sicura che ti sarebbero piaciute. E visto che oggi comunque non abbiamo fretta, io vorrei andare a delincarvi quella che è la classifica aggiornata dopo la tredicesima tappa. E partirei dal decimo classificato di questo momento. Andrei quindi con decimo posto, Tommaso Ciuffi, nono posto, Corrado Pinzano, ottavo posto, Marco Asnaghi, settimo posto, Paolo Comendulli, sesto posto, per Luca Rossetti, quinto posto, Andrea Crugnola, quarto posto Gianluca Tosi e Rulo di Tamburi per i primi tre, che è tutto da verificare poi da qua alla fine dell'anno, il terzo posto per Mattia Targon, il secondo posto per Michele Rovatti e il primo posto per Andrea Dal Ponte. Quest'anno sta facendo fatica il nostro Michele Rovatti. Se la stanno giocando alla grande. Quindi Mirko, visto che è lui che ha ideato questa serie e che sta prendendo veramente tanto piede perché ci sono tantissimi equipaggi iscritti quest'anno, Mirko, io vorrei un tuo punto della situazione a questa tredicesima tappa che ha regalato tante emozioni anche per noi dopo quella del Casentino, chiaramente. Ma indubbiamente il punto della situazione è facile da fare, cioè sembrerebbe mai già tutto scritto, già tutto discusso e fatto perché con i punteggi di adesso dal ponte sembrerebbe fondamentalmente primo davanti a tutti senza nessun problema e invece no, non è assolutamente così perché nel Piston Cup non è ancora assolutamente nulla finito. Anzi, con le rimanenti sette gare di cui due sono in concomitanza è tutto ancora da disputare. Infatti inizierà adesso il vero gioco cioè quelli degli scarti con la città della Coppa Valtellina finirà l'IRC e quindi saremo costretti saranno costretti chi è iscritto all'IRC e anche al Piston Cup a fare uno scarto sulle quattro gare disputate oltre questo sappiamo benissimo che minimo quattro risultati per poter raggiungere la possibilità di avere dei premi in denaro ma massimo cinque quindi chi ha già cinque gare comincerà anche a scartare le gare negli scarti naturalmente vincerà chi disgraziatamente fino ad adesso ha avuto sfortuna vogliamo parlare così ha avuto dei punti in meno sì perché sarà lui a scartarne meno di altri che invece come Michele che è a punteggio pieno in tutte le gare parlavamo prima di Rovatti sarà costretto a scartare tanti tanti bei puntini quindi per lui ancora gare da fare per poter poi risalire la scira come del resto ha fatto il nostro Targon a Schio che avete visto come guidava andava fortissimo ma ha risalito ben sei posizioni con cinque risultati anche per lui quindi anche per lui è arrivato il momento degli scarti fortuna per lui che un IRC lo potrà scaricare sicuramente a zero che è quello dove si è ritirato al Tarro per questo io continuo a dire ad oggi se io mi volessi iscrivere al Rally Piston Cup potrei ancora vincere perché ho cinque possibilità per andare a punteggio pieno che è quello che serve in gare con 70, 80, 90 iscritti per poter risalire velocissimamente la cima naturalmente chi fa più gare come ho sempre detto è avvantaggiato dal fatto che riceverà dei premi per aver partecipato i cosiddetti bonus partenza che saranno più alti perché sono in crescita ogni volta aumentano di 10 punti però è anche vero che dovrà scartare e chi ha punteggio pieno rispetto a chi come me comincia ad avere i punteggi e può prenderli tutti non è sicuramente avvantaggiato io vorrei ricordare che durante i rally della città di Schio in un'intervista con Andrea Dal Ponte lui ha deciso di appellarsi al super rally e di rientrare in grara tecnicamente perché c'era il rally piston cup che dava la possibilità comunque di guadagnare punteggio e poi di concorrere al monte premi quindi il rally piston cup sta dando oltre al premio di Magicas anche la possibilità ai piloti di continuare a gareggiare anche se in quella determinata gara magari sanno già che non arriveranno sul podio lui è stato chiaramente l'esempio lampante di quello abbiamo detto fino adesso ha capito il sistema e nel sistema ha giocato a suo pro perché pur arrivando undicesimo perché lui comunque era panizzato da più di tre minuti del super rally grazie a quelli che sono stati i ritiri della gara ma grazie anche al fatto che il numero 97 iscritti partenti gli hanno permesso di avere in undicesima posizione ben 100 punti e 49 lui è stato il leader di gara in tutte le gare e prende la prima prova con i 50 di bonus si è portato a casa quel bottino che adesso lo vede in testa e ha scalzato Michele Rovati con una gara quindi è per quello che è tutto così veloce sai che Mirko a me in giro per le corse che seguiamo noi mi fanno i complimenti per il regolamento che hai introdotto e tante altre categorie sarebbero assolutamente contenti di avere un regolamento come il tuo perché veramente per la prima volta forse si premia il talento del pilota e non ho la macchina più veloce o la macchina più lenta questa è una generata indubbiamente si premia talento bravura che si abbina al talento costanza perché non si può ottenere dei premi in denaro facendo due o tre gare tanto per dire io sono più bravo la macchina è migliore e vinco io spero che vada avanti così per adesso siamo contenti senti Mirko c'è un pilota sul quale tu scommetteresti oggi? sì ce ne sono più di uno sinceramente fai il podio quest'anno tu hai già rotto una costola bisogna che stia un po' più attento non è semplice da fare non vedo male a snaghi non vedo male a tosi non vedo assolutamente male come in dulli perché comunque ha dimostrato di andare molto bene soprattutto non vedo male questo dal ponte che ci crede molto è molto determinato è un targo anche quest'anno il nostro bambino ci sta facendo divertire potrebbero però rientrare tranquillamente anche altri aspettiamo a fare tante classibie perché anche Lucchesi ha la macchina giusta e il piede giusto per poter portare a casa degli ottimi risultati assolutamente sì allora Mirko è giunto il momento per noi di salutarci perché Parco Chiuso sta arrivando quindi ne approfitto per ringraziare ringraziarti di essere stato qui con noi anche oggi dallo tu l'appuntamento a settembre a settembre adesso ci riposiamo un po' la prima domenica di settembre ritorniamo qua sugli schermi di Sport Italia grazie mille per essere stato con noi Ricky sì ecco naturalmente ragazzi segnatevi le coordinate per rimanere sempre in contatto con la redazione di Rally Dreamer che ve le vado ad elencare subito rallydreamer.com il sito internet la mail rallydreamer chiocciola gmail.com e le pagine social facebook e instagram che sono rallydreamer poi c'è il whatsappone ok che è 349 29 40 7 9 6 adesso lasceremo la parola e la palla alla super Carlotta Savorelli che ha due ospiti veramente da urlo li ho conosciuti dietro le quinte quindi ci sarà ancora tanto rally insieme a questi due super ospiti siciliani io voglio fare i complimenti a Carlotta perché oggi ha un colorito guardate che vestito voglia di vacanza voglia di vacanza ringrazio io Ricchi Scarlato grazie per questa ospitalità e naturalmente il super Mirko Tognarini che lo rivedremo a settembre sempre più carico con le sue produzioni magnifiche del rally ottimo allora signore restate con noi ci fermiamo giusto un attimo per cambiare la disposizione dello studio e dare vita di nuovo a Parco chiuso Venturi Caffè dai nostri distributori automatici il miglior caffè per la tua azienda da oltre 40 anni al servizio di chi esige la qualità Venturi Caffè il meglio che c'è Signori benvenuti a bordo il viaggio può iniziare mettetevi comodi Nini Virta velocità sicurezza affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale Nini Virta un servizio chiavi in mano logistica distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi dal 2007 magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni Nini Virta la prima azienda in Italia a utilizzare camion comportata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica Nini Virta da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi www.ninivirta.it questo programma è offerto da ben ritornati con noi come promesso è arrivato il momento di parlare di parco chiuso che cos'è parco chiuso per chi non lo conosce parco chiuso è una rubrica dedicata all'interno di rally dreamer che va a trattare gli argomenti reali all'interno di quello che è il mondo del rally in passato abbiamo già parlato di quello che significa modificare una vettura da auto di serie a auto da competizione con pool racing abbiamo trattato l'argomento del navigatore e delle note insieme a Massimiliano in cui abbiamo proprio fatto vedere che cosa significa scrivere il libro delle note e quando si dice destra 6 o sinistra 2 ha un significato ben preciso e ve lo abbiamo mostrato inoltre abbiamo avuto la possibilità di parlare insieme a Mauro Zambelli di quelle che sono le tecniche pre-gara post-gara da parte di un pilota di un navigatore che si vuole approcciare a questo mondo oggi andremo a verificare invece e a farvi scoprire che cosa intendiamo quando parliamo di scuderia chiaramente tutti questi video sono consultabili e visibili sul nostro canale youtube di Rally Dreamer ecco perché oggi ho il piacere di introdurvi qui con me direttamente dalla Sicilia la scuderia project team nella persona iniziamo da te del suo presidente Luigi Procoleri buonasera buonasera a tutti allora Luigi è un gran piacere averti qua con noi ma è giusto che io saluti anche il tuo amico e collega abbiamo con noi il direttore sportivo scusami Salvatore Coggi buonasera buonasera allora il grande mondo della scuderia è un mondo per molti sconosciuto e vorrei che foste voi a spiegare che cosa significa e a che cosa serve una scuderia ricordiamo automobilistica Luigi scuderia dicendo il nome scuderia già se non fosse per il discorso automobilistico legheremo il termine a una scuderia di cavalli quindi diciamo che la scuderia in questo senso noi ci occupiamo come quella dei cavalli noi pensiamo ai nostri piloti quindi li curiamo li trattiamo bene li mettiamo sulla retta via per far sì che le loro gare risultano il più facile possibile quindi li coccolate un po' eh sì dai ma un pilota deve necessariamente scegliere una scuderia alla quale affidarsi? no 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 ci sono piloti che non hanno alcuna scuderia però c'è da dire che una scuderia rappresenta una famiglia un gruppo di amici che segue il pilota quindi sicuramente con una scuderia dietro il pilota sta più tranquillo in gara e quando siamo in Sicilia no? che parliamo di famiglia il senso della famiglia è sicuramente un grande valore anche sul lavoro e vorrei sapere da te nel dettaglio prima dopo e durante la gara iniziamo dal prima ma guarda la scuderia innanzitutto partiamo dal presupposto che deve seguire il pilota già posti gara quindi fare comunicati stampa compila le schede di iscrizione le invia poi si occupa della livrea delle macchine del pilota curando l'immagine degli sponsor e così via quindi diciamo che è un percorso che si fa insieme al pilota per far sì che lui si concentri solo sul discorso gara quindi gli date la possibilità di stare concentrato semplicemente sulla guida pensando voi a tutto il resto nell'ante gara durante la gara la scuderia cosa fa? durante la gara dobbiamo cercare sempre di dare un supporto due tipi di supporto uno emotivo e uno tecnico quello emotivo intendiamo sempre cercando di familiarizzare col pilota in barco chiuso in barco assistenza fargli trovare un ambiente comunque molto familiare in modo che lui sta calmo tranquillo e stendo un po' i nervi in campo tecnico passiamo sicuramente la parola al nostro direttore sportivo allora Salvatore ti chiama in campo il tuo presidente un direttore sportivo cosa fa insieme ai piloti? guarda Carlotta in realtà il ruolo del direttore sportivo inizia già prima della gara inizia perché devo curare il prima il durante e il dopo dei nostri piloti mi occupo della gestione di alberghi di andare a curare l'immagine del nostro pilota di andare a curare comunque anche delle trasferte che ci sono in vari hotel queste robe qua cioè sono tutte quelle cose che vanno comunque a far perdere la concentrazione al pilota che prendendovele in carico voi come scuderia lo alleggerite di diversi pensieri concedendogli di essere più sereno di fare le sue meditazioni di mangiare di avere tutta la sua routine mi immagino prima di una gara perché a tutto il resto pensate voi e dopo la gara c'è bisogno ancora di voi? dopo la gara noi siamo sempre presenti siamo quelli che il nostro pilota lo teniamo diciamo a bada riusciamo a come dire ad aiutarlo ad aiutarlo ecco in un certo senso sì poi sono l'anello di congiunzione che c'è durante la gara tra l'equipaggio sono quello che riesce a dare i tempi a trasmettere come va in quel momento la gara e che posizione hanno in classifica dopo la gara c'è tutto un discorso di preparare l'immagine del pilota che cosa ha fatto in gara come si sono comportati promuovere questa immagine qua a livello social a livello web c'è proprio a tutto tondo 360 gradi di coccole al pilota Luigi una domanda per te ma quali altre figure professionali ci sono oltre a il presidente e al direttore sportivo dentro una scuderia la nostra squadra è composta oggi di 4 elementi i due sono qua io e Salvatore poi abbiamo il direttore tecnico Giancarlo Tirolo che saluto è un ragazzo in gamba ci do una grossa mano sui campi di gara dal lato tecnico e poi c'è Lino che sta in ufficio insomma corre a tutte le iscrizioni limpia le schede la fatturazione e la parte amministrativa quindi c'è anche tutta la parte di burocrazia che ovviamente non manca io ho una curiosità mia personale un pilota può scegliere una scuderia ogni volta che ha deciso di cambiare una gara sceglie una scuderia in un'altra gara sceglie una scuderia o si firma una sorta si suggella una sorta di matrimonio per una stagione ma assolutamente si firma un contratto di inizio stagione dove il pilota si impegna quantomeno per quei 12 mesi con quella scuderia sarebbe assurdo pensare di cambiare scuderia ogni gara anche perché per la gestione sponsor e quant'altro sarebbe inopportuno e quanti piloti avete adesso all'attivo che coccolate parecchie una forbice 0,300 0,500 oltre 150 infatti guarda abbiamo chiuso l'escrizione proprio a giugno per evitare di trascurare quelli che già ci hanno dato fiducia esiste un motivo per cui una scuderia può rifiutare l'iscrizione di un pilota? rifiutare a priori no però a noi è capitato personalmente di tra virgolette cacciare via il pilota perché non rispecchiava l'immagine della famiglia che abbiamo creato noi la famiglia quindi è molto importante così come succede all'interno dell'abitacolo tra pilota e navigatore che ci sia appunto questa sorta di nucleo stretto ci deve essere altrettanto con la scuderia quindi bisogna fare casting prima di sceglierne una a questo punto bisogna veramente riuscire a trovare quel feeling che vi può legare perché vivete a stretto contatto anche durante le gare siete 3-4-5 giorni perennemente insieme noi cerchiamo sempre di essere comunque presenti nei campi di gara come in questo weekend passato 4 gare in concomitanza è difficile accontentare tutti 4 gare cosa avevi avevamo in Sicilia una Coppa Italia con 16 equipaggi al Milano rally show un altro equipaggio con un WRC e Gianfranco Occhiang uno strallummi locale con altri 12 macchine rally show un altro equipaggio diventa difficile seguirle tutti insieme però cerchiamo anche tramite il web di essere presenti io so che tra l'elenco dei vostri piloti ce n'è uno che a me è molto caro a me in quanto anche rally dreamer e stiamo parlando di Marco Belli sì sì Marco ci siamo conosciuti da pochi mesi però c'è stato subito un buon feeling correremo insieme anche a Rabbe di Bologna il 17 di settembre e noi ci saremo perché è in serie Piston Cup ne abbiamo già parlato staremo tutti insieme quindi diventeremo scuderia redazione cameraman insieme al nostro pilota e chissà chi ci sarà le note in quell'occasione insieme a Marco progetti per il futuro allora siamo a luglio ormai è agosto per la verità siamo ad agosto sembra che quest'estate appena iniziata sia quasi già finita ma mancano ancora quattro mesi alla fine dell'anno Salvatore guarda Carlotta più che progetti i miei sono obiettivi un obiettivo principale è quello nella nostra regione di vincere il campionato regionale con il pilota che attualmente si trova in testa regionale che è Gaspare Corbetto che lo saluto e di ben figurare nelle gare che abbiamo in programma tipo il rub con Marco Belli e con il nostro presidente questi sono gli obiettivi per il 2017 come programmi è quello di far migliorare e far crescere sempre di più la nostra famiglia ci tengo a sottolineare famiglia invece per il 2018 ho l'ambizione di puntare a dei campionati campionati come il CIR confermare altri piloti nell'IRC e magari pure nel rinnovato Trofeo Aurelio Asfalto cioè puntare di più adesso sulla qualità e espandere la Project Team sempre di più non abbiamo parlato tanto di Project Team abbiamo parlato in questo parco chiuso di che cos'è la scuderia e onestamente forse non ho dato abbastanza spazio per ora a quello che è la Project Team in quanto scuderia quindi presidente vengo a te a chiedere quando è nata come è nata e perché vi siete uniti con questo obiettivo ti faccio una premessa io ho un autodromo di proprietà in Sicilia da Grigento e avendo tantissimi piloti vicino a noi intorno a noi c'era l'esigenza comunque di seguire questa gente anche sui campi di cara oltre alla pista quindi l'idea è nata da là fare una scuderia pian piano ci sono fissati il primo obiettivo 50 piloti il primo anno e invece e me abbiamo chiuso le iscrizioni a giugno perché siamo oltre 150 hanno visto che lavoriamo bene quindi ci hanno subito dato molta fiducia io Salvatore visto che cerco di rimpallare un po' in quanto direttore sportivo che cosa miglioreresti ancora all'interno della Project Team guarda sicuramente a livello di migliorie c'è poco da migliorare perché ho visto che siamo l'organico funziona benissimo siamo ripeto a sottolineare una bella famiglia che sta viaggiando su un binario e a livello di migliorie ne vedo pochi quello a cui punto è adesso come dici sarò ripetitivo ma la qualità adesso dobbiamo puntare a un campionato di qualità e avere piloti di qualità che ci diano risultati e soddisfazioni facciamo l'appello ai piloti che ci stanno guardando se volete scegliere la Project Team nella stagione del 2018 come vostra scuderia affrettatevi perché i posti saranno ancora meno perché le coccole che la nostra scuderia darà a questi equipaggi sarà eccellente bene io voglio ringraziare Luigi Brucoleri per essere stato con noi grazie a voi Salvatore Coggi grazie anche a te ringrazio anche tutti voi per averci seguito il programma Rally Dreamer continuerà a ritornare nelle vostre case a partire dalla prima domenica di settembre e Parco Chiuso ritornerà presto prima ancora che possiate battere il ciglio signore Ida Carlotta grazie a tutti e buon'estate grazie a tutti